Bella raga, qua è Savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale Oggi ragazzi glitch bomba, motivazione bomba perché mi sono rotto i coglioni di sta cavolo di neve Allora non ce la faccio più anche se il 12 la levano ragazzi i tutorial per schippare la neve dalle lobby Quindi non ci resta altro che aprire il menu di pausa, andare su online, attività, avvia attività, creati da Rockstar Gare stante ragazzi ed andiamo ad avviare una qualsiasi gara outring A questo punto ragazzi non vi resterà altro che entrare nella lobby e startare la gara da soli Dovete entrare dentro la gara per forza ragazzi Una volta che saremo dentro la gara ci accorgeremo che effettivamente la neve non c'è nelle gare delle outring Quindi cosa ci tocca fare? Partecipare da un amico che sta in una sessione Quindi aprire il menu di pausa ragazzi Andare su amici e fare unisciti a partita in un amico che sta in una lobby Qualsiasi ragazzi, privata, pubblica che sia Cosa succederà? Che noi quando entreremo nella lobby non avremo la neve Anche se effettivamente il nostro amico avrà la neve perché era nella lobby Vi voglio anche informare ragazzi che se usate le outring per moddare possono passare le livree segrete Quindi come potete vedere una volta spawnati e sbada bam regà non avremo più la neve Se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportatevi se attivate la campanellina Mettete le notifiche su tutte così ogni volta che posto un video vi posso trapannare le palle con le mie notifiche Bella regà, alla prossima! Ciao!